1 e 10 a frate io due partite a fortuna e vado a fare una di mario kart o sai che sì sì c'è bisogno lo so che vi serve il terzo venire assolutamente dai so che vi serve che vi serve il terzo per vincere qualche game c'è sto c'è l'ho dog frate il ritorno della mosca a frate il ritorno della mosca la mosca assassina si trasta il processo oddio si va subito nella casa del maestro ragazzi che salvo sta qua sta qua sta dietro marzo non c'ho niente marzo c'è un cecchino e pure io c'ho il cecco e baggia ma non è così bello come call of jury il cecco qui adesso madonna ma è vomitevole ma che cazzo appena visto no frate mi sono riuscito a prendere un giro mi tiro ma se è meglio no sì sì mi tiro mi tiro mi tiro quando hai voglia già no mese stanno a fa perché hanno la mamma che succhia i cazzi grande mo ascedi grande troppo inconato però grande mo ascedi sicuro giù che non vuoi andare a restare ma non posso come faccio no da un'altra parte magari ne so piaciute ste cinque sabette marcoli che piacciono oddio aspetta che devo godere perché muore nezzac sto godendo non ce l'hanno non te poi salvata situazione sei fuori oddio le stai per buscare stai insopportabile sì non c'ha veramente senso è rotto il cast ma buonasera abbiamo qualcosa da prendere qualche le 20 persone che ho ucciso bro vabbè però manca fa così ma non è molta la te lo sta fa pesa posso dire secondo me è un atteggiamento un po brutto quello che ci ha mai provvederò a cambiare nella mamma mia ma quante vocaboli me lo stai dicendo anche tu mamma mia vera vera mamma mia ma in bianco bello il cielo a guana lui è arrivato a Tony Hawk ma guarda ti sta dai mamma mia ma che cazzo è no Nali come cosa fai ma che ho visto oddio nuovi punti di ripeto e qua è qualcosa ho visto l'ho visto l'ho visto me li faccio my man margione è sopra a casa a casa ne ho uno ok uno per terra my man distrutto dite mi se avete bisogno no è tutta pazza ok ok qua c'è lo spruzzone se vuoi hai trombato si va bene ma guarda quelli in dos stanno mini 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 margione mini è vero tira fuori la capoccia occhio che mi stava sparando non so chi trovamolo eh mi sai che stanno taggiamo la mania ci ha chiamato uno eh io non lo spadamelo 214 metri va al bar va regà io non so come veni da voi morto uno fianco l'altro è finita per me morto l'altro è finita come è finita no già 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 dove sta dove sta non riesco a vedere dove sta nella mappa eccolo dietro mancia cazzo si è morto morto già morto bravo marzo sei un grande dio cane sei un grande mi tiro un po' de sauvage bravissimo 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 vai vai giù dalla montagna mamma mia che mossa che gli ho fatto a quello ma dove stanno qua di fronte provo a prenderli l'iground ti prendo l'i sono haig ma qui dove precisamente hai paddato eh si si ho paddato c'ho io like c'ho io like nel c c'è uno qua sotto sta salendo dove sta l'ultimo lo voglio fa è qua sta andando via con lo spiderman come sta andando via con lo spiderman eh si è l'ultimo è mio lo voglio non lo vedo ah merda guarda 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 come si è andando ma che sta a fare la sta a fare l'eremita io ho fatto 19 blu sto arrivando sto arrivando lo sto buttando giù a pezzo niente fate scopatevi questo figlio di troia guarda Gesù Cristo ma non è possibile ma che armi so 19 blu ancora giù eh un boxato una roba dura GG easy easy guarda come si è rialzata come una finissima first game on let's win vabbè regà mascialla ve li pagiamo muo tanto vi pare che vinciamo un game con 20 bombe onestamente è impossibile madonna santa quanto siete inquietanti allora mi dite che casa andate dimmi quando è l'ultima volta che io sono allo spiderman ti sei fermato un po' Marco dopo questa sei puntato è legale l'uccello che dà pure i vini molte volte oh marzo mannaggia alla madonna è vero potevo condividertelo eh sì in un buchino sì dimmi quando è che hai vissuto le piccole cose già Marco nel garage c'è il pompa ma c'è c'è gente qui c'è pure mia madre me ne andrò no no me ne vado me ne vado non c'è bisogno me ne vado c'è il pompa nel garage sdrogo sai che mi stanno venendo dietro sì mi stanno proprio venendo dietro zio li ho attirati qui sono caduti nell'inganno ma non lo so se ha ingannato me o loro onestamente mamma mia lotta tra tutto di uno con la stream ho fatto il quick e dice ho giusto un altro no questo era quasi fatto marzo marzo bravo marzo bravissimo sta curando sta curando ah no non sta più curando mamma mia francesco da bari ah eeeh c'è un altro team si vabbè si dai è il momento degli idas ho capito questi sono calienti ti vedi ma non lo so le cose che le cose che levate di più capito questi lavori un po' meno merda hit brutta penso sono venite fusione terminator signori terminator no vedi stanno a tirar il fuoco ti stanno a tirar il fuoco giù madonna ti stanno a tirar il fuoco davvero frate eh vabbè mi faccio un big poi mi faccio i cazzi miei invece ma sarò aaaah vabbè ragazzi ma cosa sto vedendo l'ho detto è il classico c'è sì sono entrato ci sono otto case sono entrato nell'unica casa dove c'era questo e già non c'è un cazzo più che altro questo l'avevo fullboxato ma non so dove cazzo si è andato sto sparando un altro da dietro non ho colpi di niente è ancora morto morto arriva un altro 45 mi è arrivato granate sei tu? no non so io ti mettermi un colpo di pompa ma è uno ma è lui ma che cazzo fa morti morti morto bello io stream più spesso fortnite così beh hai visto questa è la mia carriera si ci staranno due armette sdrogo oh in realtà questa non me dispiace mi serve giusto un goloso pompa ce l'hai marzo una dei colpi per grande mitraglietta di call of duty ne ho pochini ne ho 100 però guardate posso dare stavo rispondendo la ragazza visto che si sta incazzando che non lo sto cagando quante mancano ragazzi? non lo sto ma sto correndo in giro abbiamo 16 bombe ma siamo 13 persone c'era davanti c'era la luce della cosa morto uno francesco marzano craccato l'altro morto un altro francesco marzano craccato un altro morto tutto francesco marzano sono morto anch'io porca troia aia aia è finita eh niente dimmi quando è se rimani vivo devi stare nascosto esatto devi stare nascosto perché vi fa rinasce? si e devi prendere il nostro ah ma non c'è lo spider man lui no ma giammate devi fare cattito perché manca poco tra te so troppo ma è una trio intera quella lì manca pure una kill se fai una kill e vinci è vinta la betta e tu dove le due mani ma no si ma perché non vi fa rinasce quindi come roba eh no dovresti prendere le carte e far rinasce tu ma non puoi andare là vabbè ok questo è il gameplay del torneo di ciccia gamer ma proprio cazzo i tuoi royale dai questo un altro è una trio no no non ti ha visto non ti ha visto vai ti dimitragliata bravo bravo fallo entrare vai dimitragliata bravissimo c'è Marco Tocco bravissimo c'è Marco Tocco finiscilo che per me non è kill no Marco Tocco beh si ma serviva un cazzo pure 20 bombole crema frate era pure win c'è stava porca troia ci avevo creduto no ma che ci avevi creduto c'è stava che era un altro team c'è stava eh sì erano cattivi bella 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 bella